Wow, sono bellissimi. E gli erano due? Con... Brav Fletch? Sì, erano due. Vinco! 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 Sì, però capisci che... Ok, siamo a mente e niente con... Siamo studiati. Sembra il 2016 di Paola, non usava un termine di live. Quindi non è vero che si è stati da poco. Sono a mente perchè speravo di vedere ciò. Sì, ma... Nel chat di questa partita? Ma non lo so. Aaaaaaah! Aaaaaah! Vissi che... Mettrite, spesso di tutto, non ha la sua. Non ha la sua. Era molto piccola. Sì, è molto piccola. Ha un'ottima... Poi ha un ottimo... Poi ha un ottimo... Stu, presa... E la Pai, prima con... La l'instrazione della Pai. E dai finisce! Zero to death! It smashed! Come stai? Un solo 1, 3, 4! Beh, io pensavo di dover scrivere un 3 di più. Non è che pensavamo che era un... Ma la skill... E anche per questo volevo vedere il... Di Brawler. Ottimo cerca di prenderlo fra Pair. Fa un po' di persone sul scudo. Vediamo se riesce a rubare. E' un passcode. La combo... E' un mashup che... I tuoi che uccide. Sì. Però... Non è tantissimo il combo per questo personale. Mi ricordo ancora... Quando quei coglioni di Abadarko e Raika... Ci sono messi a fare... Threat, Commetrite e... TSS... Il giorno dopo gli hanno messo la macchina. Ma anche a Sakurai. Non la trova. E' una persona... E ce li trova! E la prende! E' ancora fattibile! E poi ha recuperato immediatamente la situazione. Ottimo! Ha solo un 50... Un 60% di lead... Zerosuite. Può essere recuperato. Perché può essere recuperato. Ma è molto difficile... Prendere le strap... E ho chiudere! JV2! Quella vostra è veramente ottima. Un fantastico mettero. Ti amo! Scusate! A nulla! 5 ore U! Perchè senti un Little Mac? Ah, perchè c'è un Little Mac! Easy! Eeeh... Cosa? Easy! Oh! Ugandanacos! 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 Dobbiamo preparare i meme! No, albenga! Ugandanacos! Ugandanacos! Albenga! Ugandanacos! Ogni volta che faccio la stanza! Oh, oh, Uroni! Oh, Uroni! Ogni volta che fai... Ogni volta che fai... Sì! 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 Andiamo! Ok! Prendi subito! Quanto è bella quella skin, quelle cose che... Sì! 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 Con i... Ricci! Oh! Tenta quasi subito la combo esce immediatamente! Andrew, poi dopo vedi contro chi devi giocare! Vero! Si... Mi parte ciò vero! Ape 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 pe care ottimo quel down B che ogni volta aiuta questo versaggio a riuscire dalla situazione difficile landing tenta e prende la kill! prende la kill! ma che cazzo albenga knack o spitz ma che cazzo! prende un kill prende un kill però quanta il suo flip jam ancora il salto si ancora il salto riesci ancora a recuperare si ok neutral layer down throw tenta il fullstool prova a leggere la roll per pochissimo non ci riusci albenga knackles paolo paolo tenta il side B quanti incubi 150% piena rage questo è quasi kill per senso non è più kill per senso perchè paolo sta suicidando scrivetemi ah ok ok mi sarei chiesto chi era il maschio qui a poi dobbiamo mettersi in streaming con 50 cappelli sul io ho fatto solo quello si su cosa stiamo in streaming si who smash o who smash attenzione non la prende non la prende buonissima DI E ancora, c'è il percento? Sì, è che ho fatto un video su quella... ... del pari di Aya, la Tricloss. Ehm... Ok. Backhair, Ftilt, ancora pulibili al 50%. Potrebbe essere... Ah, ok, sì, c'è... C'è... No, non lo so! E puoi fare sempre la... Ma perchè troppo quella roba lì è completamente... Quasi completamente seria. Quello che devi fare... Ha cercato, ha cercato! Prendo ottimi per sapere! E zero per... Dopo un ottimo che non ha stop! Mazzoni, 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 Mazzoni... Un punto di sprite! E c'è...